Lorenzo Manelli, in panchina, in vista, Gorgia Per la Lusei, quest'oggi, con il completo verde Con la maglia numero 9, Riccardo, La Serrara Con la maglia numero 2, Potevico, Dall'Amu Con la maglia numero 13, Jonathan Perez Con la maglia numero 8, Umberto, Dall'Amu Con la maglia numero 9, Marco, Enciu Con la maglia numero 10, Sofiane, Cati Con la maglia numero 11, Dall'Amu Aburrata 1-2-2-3-2-3-2-3-2-4-1, De la maglia numero 3, Ofaya Napa, Ufaya Continua, Sipa Sipa Go, 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 go. Per il l'Ausli, colombia numero 7. Ho segnato, Jonathan Arez. Jonathan. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti